attenzione incredibile arriva arriva arrivano arrivano richieste di interviste da tutte le parti attenzione non si accorta su facebook ciao ciao da dove venite da vergamo perfetto bravissima nella risposta allora dimmi una cosa bella che ti ha dato lui nel 2013 cello perfetto ok ecco ci siamo e doveva dillo lei però dillo te no quello che vuoi l'amore 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 a vergamo lo chiamano così dimmi te che cosa le hai dato di bello nel 2013 lucello perfetto ecco lui è ornitologo ha un sacco di canarini a casa giustamente gli ha regalato il suo canarino l'ha impazzita per il canarino fammi la faccia di quando quando hai visto il canarino perfetto è rimasta bocca aperta è fantastico speriamo un 2014 uguale per voi mentre di qua abbiamo una coppia innamoratissima innamoratissima ti chiami valeria valeria dimmi che cosa ti ha dato lui di bello nel 2013 l'amore anche lì anche al suo paese lo chiamano così sentiamo il poeta che cosa avrà da dire niente di poeta qua nessun poeta qua eh niente le dita ecco esatto giustamente lui è attrezzatissimo è un rivenditore autorizzato ecco ragazzo lei si è innamorata per questo va bene allora nel 2014 che fai giochi col dildo? no 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 ah no ok perfetto abbracciatevi ragazzi abbracciatevi guardate e salutate il 2013 e ricevete il 2014 ciao da Bergamo no eh no 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 i